Tanti auguri Presidenti, una grande vittoria, una vittoria storica qua a San Siro contro Milano, cosa significa per Milano? Un grande significato, perché non solo abbiamo vinto la partita, ma questa vittoria ci ha dato lo scudetto, la seconda stella. Questi ragazzi hanno vinto una cosa importantissima per il nostro club, bisogna fare i complimenti per la cosa che hanno fatto l'inizio della stagione molto buona. Un scudetto arriva dopo la Supercoppa Italiana, come possiamo valutare in generale la stagione dell'Inter? Una stagione molto positiva, perché ci siamo dimostrati sempre molto competitivi in qualunque competizione che abbiano giocato, io credo che questo merito dei ragazzi ed è un gruppo che ci tendeva a fare bene. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. ... ... ... ... ... ... Grazie mille.